Buongiorno amici lontani e vicini, vi presentiamo la nuova giunta del comune di Lipari. Ieri ne abbiamo parlato in anteprima con il sindaco Marco Giorgianni, ecco i nuovi assessori. Il prossimo, perché sarà questione di qualche giorno, vice sindaco Gaetano Orto. Poi Tiziana De Luca, Giovanni Sardella e Roberto Cuccia. C'è un grande lavoro da portare avanti, si punta ovviamente al rilancio dell'arcipelago delle olie. Quindi toccherà a voi, dottoressa De Luca, con quale obiettivo? Ecco, io intanto già, che lei mi chiama così, mi può chiamare assessore, signora, mi chiami solo così. Il rilancio delle olie è un obiettivo fondamentale, quindi speriamo in questo nuovo lavoro, speriamo di farlo bene, al di là delle polemiche, al di là dei conflitti che sono falsi e che invece devono essere messi da parte e inaugurare un nuovo momento di rilancio veramente delle isole olie. Avvocato Orto, per lei si può dire un bel carico, anche se ci sarà il supporto, per alcune deleghe del consulente Berzioli, ex assessore. Sì, io devo dire che per me è stato doloroso lasciare il Consiglio Comunale, frutto anche del grande consenso elettorale che avevo avuto. Però, dinanzi a una scelta che il Sindaco ha fatto e quindi di chiamarmi in prima persona e di assumermi delle responsabilità dinanzi al Paese, sicuramente non mi sono tirato indietro perché, come dice la mia storia personale, sono un lottatore, sono un ragazzo che ho sempre costruito tutto con le battaglie e con le mie forze e spero di dare un grande contributo a questo Paese col mio impegno costante e vi posso garantire che lo farò con tutte le mie forze e la mia determinazione e spero di portare anche dei frutti insieme a tutti i miei colleghi per il bene del Paese. La prima cosa sarà fatta per la sua, per la nostra Quattropani? Quattropani? Ci sono i supporti. Mi emoziona parlare di Quattropani perché è la mia terra, sicuramente deve essere orgogliosa anche Quattropani oggi. Giovanni Sardella, un compito abbastanza importante perché insomma c'è da ridare una nuova immagine a queste isole e a lei tra le varie deleghe c'è anche quella della Red Urbano. Qualcosa ha già fatto da consigliere futuro assessore? Io innanzitutto devo ringraziare il Sindaco e quanti hanno contribuito al mio nominativo di oggi essere assessore. diciamo che siamo disponibili in prima persona a lavorare nell'interesse della collettività senza fare nessuna, diciamo, senza fare i puntini. Preoccupato per le eventuali ripercussioni insieme al suo partito? No, nessuna. Professore Cuccia, quindi un tecnico per rilanciare anche l'immagine turistica di queste isole che ormai è l'attività primaria perché insomma tutte le altre attività si può dire hanno chiuso i battenti. Ecco, quale sarà la sua strategia? Allora, intanto la strategia sarà frutto di condivisione, frutto di analisi sul territorio, frutto di confronto con tutti gli operatori, con tutti i soggetti che fanno l'economia di questo territorio e che condividono un obiettivo strategico come quello del turismo. Il turismo diventa la leva fondamentale, mentre noi siamo qui a fare una conferenza e vengono pubblicati il nuovo piano strategico del governo, ci sono tantissime risorse internazionali e nazionali ma soprattutto ci deve essere una strategia chiara, un piano chiaro di sviluppo per una collocazione a livello internazionale di questo arcipelogo che le posso assicurare per la mia esperienza internazionale è molto attenzionato ma poco fruito, quindi credo che la vera scommessa sia quella di alzare il livello e la qualità di fruizione dell'arcipelago. Lei si è occupato in passato del patto territoriale delle oli e quindi nuovi alberghi nuovi alberghi che insieme ai vecchi oggi sono in difficoltà, qualcuno addirittura non aprirà per la prossima stagione. Allora mi dispiace ma io non mi sono occupato del patto territoriale precedentemente ma mi sono occupato della programmazione nazionale che ha portato ai patti territoriali a livello centrale è una grande responsabilità ed è anche una motivazione personale, io vengo qui da quando avevo otto anni quindi conosco molto bene le isole, prima la turista e poi le ho amate ed è un atto di amore quello che sto facendo in questo momento soprattutto nella mia posizione professionale e nelle mie attività internazionali però non posso dimenticare volti che non sono più qui tra noi e di persone che hanno creduto in quest'isola e credo che da siciliano è molto facile andarsene, è difficile restare e dare un contributo da tecnico perché tecnico sono e quindi se sarà possibile azionare le leve economiche legate al turismo faremo del nostro meglio. Quindi niente a che vedere con articolo 1 ma neppure con l'MPA? Io continuo a ribadire quella che è la posizione del sindaco, sono un tecnico e sono stato scelto dal sindaco. Bene abbiamo completato, ringraziamo i nostri ospiti, grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi, arrivederci.